ciao a tutti ragazzi io sono lorenzo poi io giocherò a un gioco di cose adesso vi faccio vedere adesso giocheremo a Clash of Thames con un gioco e un gioco allora allora Sì Anzi, ciò che vedremo più tardi che ciò che è in scomiglio a preparare il tuffè. Allora, adesso prepariamo il tuffè. Non riesco. Allora, abbiamo una casa. E' un esempio di Minecraft. Io non ho Minecraft, però... Non lo posso fare. Ciao, ragazzi. Più tardi uscirà un altro video, perché adesso devo fare una cosa insieme a un mio amico. Ciao, gente!